E rieccoci tornati in studio a Cube Radio con Sanremo al Cubo. Io sono Aurora Simionato e qui con me ho il piacere di avere Marika Padoan, che è la grafica ufficiale di Cube Radio e anche la grafica ufficiale di Cube Radio per il Festival di Sanremo. Ciao a tutti, ciao Aurora, e sì, sono la grafica della radio, oppure, come tanti piace appunto definirmi, la graphic monster, in particolare il direttore Marco Sanavio. A proposito di graphic monster e di grafica, ci potresti raccontare come hai creato il logo di Ethical Champion, il nostro premio dedicato alla comunicazione etica? Dato che il logotipo non riesce a comunicare il principio etico, abbiamo deciso appunto di creare un'illustrazione che comunque sia sarebbe stato in grado di rappresentarlo appieno. Abbiamo appunto deciso di mettere un microfono che comunque sia è legato sempre al festival, alla musica, alla radio e quindi al comunicare. Ma oltre al microfono, come potete vedere nella grafica in sovraimpressione, ci sono anche delle icone di dei social. Marika, come mai hai scelto di dare questo effetto come se stessero uscendo dal microfono? Perché comunque sia le icone dei social rappresentano appunto i social network, quindi l'obiettivo era quello di esprimere il concetto appunto dell'etica all'interno dei social network, quindi il buon comunicare all'interno di queste piattaforme. Rispetto al rapporto fra social e buona comunicazione e il premio Ethical Champion, questo stretto legame è anche presente attraverso la nostra collaborazione con Parole Ostili, che quest'anno patrocinerà il nostro premio. In particolare, noi ci siamo da sempre ispirati ai dieci punti del manifesto di Parole Ostili. Ricordiamo l'associazione volta a favorire una comunicazione non ostile online per valutare e considerare i nostri candidati a questo premio e ovviamente anche attraverso i nostri social mettere in atto questo tipo di comunicazione. Seguiteci nei prossimi giorni per scoprire chi sarà il vincitore fra i nostri diversi candidati. Grazie.